Eccoci ancora in diretta, state seguendo Just Today, versione Giovedì Santo in questo triduo pasquale. Vi ricordo ancora che avremo una scansione differente del mattino e cominciamo subito però a dirvi appunto quali sono i riti, i momenti liturgici che noi seguiremo naturalmente in diretta. E state per vedere anche il manifesto che trovate naturalmente su tutti i nostri social, sui siti anche del convento, Pasqua 2023, Cristo che risorge e lo splendido bronzo che trovate anche se fate la via Crucis salendo qui sul monte reso più sacro da Padre Pio. Come sapete il Gargano era già detta montagna sacra da molti secoli. Dunque oggi e domani e dopodomani come già vi ho detto prima alle ore 8 nella chiesa Santa Maria delle Grazie le lodi mattutine. Domani presiederà fra Italo Sant'Agostino che stiamo proprio attendendo qui nei nostri studi perché scoprirete anche una bella novità da questo confratello di Padre Pio che ci aiuta ogni giorno nel nostro programma con il Santo del Giorno. Mentre lo aspettiamo dunque ritorno a dirvi che anche sabato santo noi partiremo alle 7.30 con la riflessione di fra Giancarlo Giannasso e poi appunto alle 8 daremo la linea nuovamente così come domani alla chiesa Santa Maria delle Grazie. Domani fra Italo e sabato presiederà fra Rinaldo Totaro. Naturalmente per quel che riguarda le altre celebrazioni ogni giorno è diverso. Oggi come avrete notato dietro fra Aldo Broccato prima nell'inquadratura stretta vedevate il tabernacolo vuoto. Solo alle 18 di questa sera ci sarà la celebrazione eucaristica solenne in cena a Domini presieduta dal guardiano del convento fra Carlo Laborde. Momento molto importante anche una via crucis, scusate della via crucis naturalmente domani, un Santo Rosario meditato alle 20.45. Questo è un appuntamento relativamente nuovo e poi invece alle 22.45 una adorazione eucaristica presieduta da fra Italo Sant'Agostino che appunto stiamo aspettando qui nei nostri studi. Domani la via crucis alle 11.30 presieduta da fra Rinaldo e sarà un momento naturalmente di grande solennità. La via crucis c'è anche la sera come di consueto però sarà quella in collegamento con il Vaticano per Papa Francesco che riprende il suo percorso. Come avete sentito la sua malattia durata qualche giorno tra gli ultimi giorni di marzo e il primo di aprile ci ha messi tutti alla prova. Ma anche oggi invece lo vedremo per la celebrazione crismale, la messa ci collegheremo a partire dalle 9.30. Ecco qua state vedendo la città del Vaticano e io sto vedendo e sta entrando quindi nei nostri studi. Spero tu sia già microfonato. Prego Fra Italo carissimo. Buongiorno. Ben arrivato, ben arrivato. Buongiorno, faccio bene a tutti, salve. Accomodati pure, credo forse sia più comodo anche per te restare seduto. Siamo abituati a vederti durante il santo del giorno, anche oggi avevamo previsto la clip però tu sei qui ed è molto più importante per noi poterti fare qualche domanda. Intanto però voglio partire, anche per farti prendere fiato, da una piccolissima clip tratta dall'Omelia di ieri dell'Arcivescovo Padre Franco Moscone. Per usare espressioni di San Pio in questo modo si avvicinerà sempre più l'uomo alla divinità e il solo dire credo costituirà per noi martirio e testimonianza. Ho tratto questa citazione dall'epistolario di San Pio del 22 ottobre e 23 novembre 1918, era il termine della Prima Guerra Mondiale. Trasfiguriamo l'espressione nemico in preghiera e la fatica di ogni giorno ci renderà operatori di pace chiamati figli di Dio. Fra Italo, tu questa sera presiederai anche l'adorazione eucaristica, sei stato sempre protagonista di momenti liturgici importanti per tutti noi e per tutti coloro che seguono la nostra emittente. Hai sentito anche il riferimento dell'Arcivescovo appunto all'Eucaristia Padre Pio e soprattutto il fatto che il 15 aprile compirai l'ultimo passo, ci sarà la tua ordinazione presbiterale. Quanti sentimenti in questo giovedì santo tutto peculiare saranno nel tuo cuore? Non voglio essere troppo indiscreta, però partiamo da una piccola finestra se puoi. Una bella domanda assolutamente e non è indiscreta. Sta prevalendo il silenzio, prevale il silenzio come forse magari ciò che deve prevalere anche nel triduo pasquale, insomma, per gustare tutto di più. Però è qualcosa che in effetti non si comprende fino in fondo e quindi un grande dono. Allora quando tu ti affacci, sai, quando vedi un bel panorama, sei su una montagna, vedi un panorama sconfinato, c'è quella sensazione insomma che sì, sai che c'è una bellezza, però non riesci a dire, non riesci a fare più. Sei disarmato, sei disarmato e sei anche abbandonato a quello che stai vivendo. Pensiamo a un bel tramonto. Allora sento questo, sento il silenzio davanti a un bel tramonto, a un mare grande, azzurro, a un panorama sconfinato di montagna, ecco. Sento questa grande bellezza che sto gustando e quindi rimango zitto. Meraviglioso. Anche i primi momenti delle tue decisioni di vestire l'abito hanno avuto questa caratteristica? No, anzi, mi faceva ridere quando ci siamo sentiti, un po' per quando mi hai invitato qui, tu dicevi comunque tu sei una persona, si vede che sei tranquilla, non sarei agitato. E io poi ho ricordato varie cose che adesso in effetti non sono agitato perché so che il Signore mi ha guarito su tante cose, su tanti punti di vista, però ho ricordato per esempio la notte prima della mia seduta di laurea, non ero ancora frate. Che anno era, scusa? Ogni tanto metto qualche... All'anno non me lo ricordo, però era 12 anni fa, 13 anni fa, se non anche 14 anni fa. Un bel po' di tempo fa. Un bel po' di tempo fa, sì, sì, sì. E non ho dormito per niente, con il brutto dirlo, le persone che ci ascoltano mi perdoneranno, ma ogni mezz'ora avevo delle crisi di vomito, per quanto era forte l'ansia, no? E quindi è durata tutta la notte, io non ho dormito per nulla, poi il giorno dopo potevo andare con mamma e papà, insomma i miei parenti in facoltà, ho detto sentite vado per conto mio, ho preso il pullman alle 5.20 di mattina da solo. Da termo l'immagine, no? Ho trovato lì, che praticamente c'ero solo io, perché le sedute di Laura iniziavano a mezza mattinata, e respiravo, cercavo di rilassarmi. Cosa assurda è che per la media che avevo, lo dico per fare capire anche quanto era assurda l'ansia, comunque anche facendo scena muta avrei preso almeno 110. Quindi quello che si giocava era la lode o meno, e io per tutto questo avevo un'ansia incredibile, per dire come mi sentivo anche guardato e giudicato da tutto il resto. E tu sei riuscito a darti la lode qualche volta in tutti questi anni? Raramente, raramente, però ce la prendiamo adesso. Ti ripeto, è stato un cammino anche di guarigione da questo punto di vista, una volta scoperto lo sguardo invece del Signore, che comunque ce la dà sempre la lode, perché vede in noi suo figlio e suo figlio merita la lode. Questa è una grande consolazione. Ha meritato la lode. Allora ci prendiamo noi la lode di Gesù, ecco, la nostra no, ma quella di Gesù ce la prendiamo anche noi come regalo. Abbiamo già intravisto, sarà a Termoli questa grande festa, questo momento in cui tu diventerai sacerdote dalle mani del vescovo della diocese di Termoli, Larino, Monsignor Gianfranco De Luca, che salutiamo. Io tra l'altro, essendo mezza molisana, non riesco neanche a essere tanto, come dire, tranquilla, sono emozionata anch'io con te, perché appunto conosco bene le caratteristiche così di grande forza, oltre che di capacità di restare nell'intimità delle persone come te. Ok, però torniamo anche a San Francesco e vogliamo prendere spunto proprio dalla conclusione dell'Omelia di ieri dell'Arcivescovo. Sentiamo Padre Franco nell'ultima traccia, quella in cui cita appunto San Francesco. Preghiamo così con San Francesco. E così, la pace che annunciamo con la bocca sia più copiosa nei nostri conti. E' l'ultima parte che, nonostante tutti amino San Francesco, non è pane quotidiano di fatto, neppure nella Chiesa. Come mai? Come mai? Perché ognuno, diciamo, è il suo cammino. E quindi gli ideali francescani erano quelli di Cristo, lo pensavo mentre venivo, proprio la gratitudine e l'amore che Francesco aveva verso l'Eucarestia. E che gli faceva amare tutto, tutto veramente della Chiesa, perché vedeva nell'Eucarestia l'umiltà di Cristo. E quindi questa umiltà di Cristo era uno dei valori più alti della sua vita. San Francesco ha fatto di tutto, le pazzie più grandi, per poter riuscire a guadagnarsela, insomma, riuscire a diventare un po' il suo specchio sulla terra. Parlaci di San Francesco nella tua storia personale, di quanto lo devi ancora scoprire oppure no? San Francesco è qualcosa di disarmante. E quello che colpisce di Francesco è la sua capacità di passare dal detto al fatto. Cioè, Francesco salta anche il, come dire, il detto, va direttamente al fatto, no? E queste parole che abbiamo sentito, per esempio, sono anche un esempio particolare di quanto sia stato potente l'impatto di San Francesco. Perché non sono parole di San Francesco. Non le ha mai dette e scritte queste parole. Li sono state attribuite perché sono impregnate della sua spiritualità. Allora è come se Francesco continuasse a parlare anche per bocca di altri. Allora San Francesco comunque tu lo vedi e vedi un uomo che a distanza di secoli, non avendo avuto nulla di suo, semplicemente con il suo fare, con il suo seguire Cristo, ha portato tanta luce nel mondo. Il Signore non chiede a ognuno di noi quello che ha chiesto a San Francesco. L'esperienza di Francesco, l'esperienza di Chiara, sono state esperienze uniche. Dire voglio essere come San Francesco, a volte ci diciamo, è disarmante. Anche se Sant'Agostino diceva in relazione alla santità, ma se ce l'hanno fatto loro, perché non io? San Francesco è una provocazione incredibile e ci porta sempre a un livello più grande che noi dobbiamo allargare le braccia. Tu sei già un perfetto predicatore, perché abbiamo sentito un grande comunicatore tante volte con la rubrica dei Santi, poi a passato magari mi dirai quale in particolare sta nel tuo cuore, che hai scoperto, ma me lo dici dopo. Ma sei disposto a qualunque servizio che questa provincia religiosa ti incarichi di fare? Sì, questo fa parte della nostra vita, insomma. L'abbiamo scelto prima ancora di cominciare. Quindi tu a un certo punto ti affidi nelle mani di una persona e questa persona ti illumina il cammino su quella che sarà la volontà di Dio per te. E appunto partendo da San Francesco, lui proprio nel suo testamento, quando anche aveva notato che i frati avevano nuove idee sul cammino, lui stesso dice io voglio avere un guardiano e voglio essere suo prigioniero. E' una grande volontà questa per evitare di fare quello che ti pare e piace, perché quello che ti pare e piace non è la volontà di Dio. Non è detto che ci sia una, come dire, una lotta tra queste cose. A volte concordano, a volte no. Adorazione eucaristica. Noi abbiamo anche qualche immagine di quella dello scorso anno. Tu sei stato da anni un protagonista qui nella Chiesa Conventuale e in tanti altri appuntamenti, proprio della liturgia, pensiamo anche al mese di maggio. Che cosa ti ha cambiato dentro la liturgia? Che cosa può cambiare? La liturgia ha cambiato la mia maniera di pregare, perché la liturgia è particolare. Io partendo da un contesto giovanile molto anche originale, la voglia di cambiare le cose, ma facciamo così, mi ha abituato all'obbedienza della preghiera. Insomma, questo tramandarsi di un modo di pregare, che comunque ci viene da tanto tempo, dopo anche tanto studio, tanta riflessione, tante scelte, mi ha fatto capire che è un dono della Chiesa grande. A volte, sai, da quando ero più giovane mi annoiavo. In Chiesa dicevo, sì, ma questa cosa perché così? Eh, ma è noioso. Ero un po' ostile a queste forme preconfezionate di preghiera. Ero più inclina a facciamo quello che mi dice il cuore, dai, facciamo il canto adesso, ma perché adesso sono più rispettoso e più amante della Chiesa e della liturgia, come me l'ha insegnata la Chiesa, proprio perché mi sento collegato alle prime comunità cristiane che si riunivano insieme e spezzavano il pane nelle case. Il mio collegamento adesso, siamo ventunesimo, ventiduesimo secolo, quando siamo ventuno. Ventuno ancora. Io e le date siamo fatti così. E quindi mi fa sentire all'interno di una famiglia grande che sta pregando Dio in quel momento, con le stesse parole e con la stessa disposizione di spirito. Purtroppo abbiamo solo pochi secondi ancora, però io vorrei che tu chiedessi qualcosa direttamente rivolgendoti ai nostri telespettatori, perché stai dando tanto, puoi chiedere a loro qualcosa. Io credo una preghiera e chiedo che riscopriate anche voi il vostro sacerdozio. Il sacerdozio non è solo quello ministeriale di quelli che consacrano e che amministrano i sacramenti, ma il sacerdozio è qualcosa che riceviamo nel battesimo e che ci unisce alla missione di Cristo. Ora non posso spiegare e dire di più, ma in questo saluto vi faccio questo invito. Riscoprite il vostro sacerdozio nel battesimo, iniziate a informarvi. Quindi magari andate dal parroco, chiedete sì, ma il sacerdozio mio che è? Che cosa esiste? Leggete, cercate su internet, questo è il mio augurio. Riscoprite il vostro sacerdozio. Intanto siamo contenti, seguiamo fino a quel giorno in cui naturalmente poi tutti vivremo questo momento di gioia. Grazie Fra Italo. Grazie a te e grazie a tutti voi.